Musica Questa sera presentiamo la commedia Tre pecore preziosi di Eduardo Scarpino Sperando di divertire il pubblico presente e quelli che la vedranno su Youtube Noi siamo pronti Un boccalupo a tutti noi E un augurio ai ragazzi Io mi chiamo Ilania Carà e nella commedia interpreto Virginia che è la nipote della padrona di casa E niente, in questa commedia ci saranno molte sorprese Si riderà, si piangerà, un sacco di cose Ne vedrete delle belle Io invece sono Pasquale Di Simone e interpreto il ruolo di Enrico Praticamente sono questo ragazzo che vuole sposare una fanciulla e chiede il permesso alla zia Quindi se seguite scoprirete se alla fine questo matrimonio si farà oppure no Grazie mille E che cazzo? Poi, in capaccia sia da chi dici queste parole e le pare di stare in città di una roba E fa poco bene, dai, dai, dai Pochi bene a un papà, gli dico tutto che io da mie faccende, tutti i guaglioni farò l'amore, solamente io che posso farciare una volta la finestra Io dico che fare l'amore tutta giornata ma almeno se vuoi andare al giorno mi volete dare e me, mi sa puoi tu ristupio, io ando da regolare io ando da giù, io ando da giù Signore Ah signore, ma forse te sia o davvero? No, io che sia, io dico da via e dico mi piace e mi riesco a fare E però vuoi di più ora a capo Non posso dire venti? No! Ah no? No Questa ragazza non può stare più in casa Nessi, vabbè a dire che la moglie è campata, e vabbè Si, mette i bagli, mette i bagli Chi l'aveva stringendo? E io, se non dico che mi racconti sia l'una con i gini? Vabbè Vabbè, non è cambiato Ma che l'aveva appaggita Scostomata costirata Oh, e signore Vabbè, non mi chiede la politica di farcara sta povera guaglione Vabbè, non mi chiede Chi l'avevo ripusciato? Sputendo a me? Che vorremmo fare? Come l'avevo che l'avevo da mia Virginia che sei sputzata al Don Feric Non si sa chi è Un'ambriata di ghiaccia che hai proteine o sereia è poco meglio da fare Come l'avevo tutta salita e l'avevo da mangiare tutto quello che mi serve E tu lo sai Eh, buono il suo saccio Ma magari sui giovani sta buono tenendo un po' di pensione Un papà, capato che dica un lato del genere Signore ma magari i due non è venuto che la moglie non ci sia due e no Non è venuta a fare prima con i genitori Fortunafino mio marito dopo la seconda volta che mi ha preso e io sto sopportando il papà Fortunafino mio marito Ah No, non siamo affortunati No Chissà meglio fare un piccola pasta Comunque dei conti Ma l'aria è buono tra le due su Don Camillo è nascita prima mattina ancora un servicorto E che è nascita di affari Sarà le fattorie Magari vorranno tutti come io Come si va a Gera se mancherà la giornata Come può superare nessuno più che la mia Ma lei come un pala due soldi E' stupido Se dice tu qui e tu dopo ma che bello su Raffaele E chi volete quale signor ce l'ho pace e non sapete Guarda la mia 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 Beatrice la mia 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 e i capigioni al porto e il piatto sia tra la mare ma non frischi vive, che sono papere di salato a non usare dei cazzo, quando siamo arrivati verso la fine come c'è lì con una carretta che ti faccio dire che sono buttato oppure mi hanno saputo che non si faccio per il salto non si sa capito niente, niente i cristiani capitavano qua, i cristiani capitavano già una tragedia e non ci sono stati faccio morte e qui non ci farei e tu sarai con me ora devi che sto pastore da l'ora e poi ci faccio pensare mamma mia e tu non c'è anche la ponte che ha la pared con l'apertura eeeh 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 chi ha scritto te l'avete posta la zia chi sta tardando dentro? e perchè l'avete tardare c'è basta, cinque, ria a me tutti gatti un fulman a carretta i galavaretti se intaccato in casa lo furono tanto dappure un progetto che ne sai poverudia poverudia si 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 guarda guarda si 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 i ne no ih ne Ma non fai cuore, non fai cuore, ma se non fai freddo, come vede il progetto, non vi acciuolo. Usa una serba e i testi sono aperti, non si dorme. Eusaggio, ma vedete, come una cosa so' più curiosa, si vede affidato poco, che faccio? Ma che tutti i miei anni non muovono? Mira, è capace che la lei non fa dormire con un cuore, ma non l'ha fatto, più una volta l'ha fatto. Ma non mi ha mai avuto il cuore. Fa un parcoore, ma perché l'ha appiato? Per lo caricato? Sono tennevato, è la mano, dove è? Fa un parcoore, fa un parcoore. O se l'ha comprato. O se l'ha comprato a proprio lei. E se sapete, ragazzi, mi è stato dove, Rosina, a Salza. Mira, come me non mi ha mai fatto. E' tanto, la mia, la mia, la mia casa ammazzata, te. Devo andare. E come pazzo? Che scusa è tua? Oh, sta venendo un cammino, cazzo. O vedremo se mi ha inventato una cosa. E' fortunato, eh. E tu sei capo, eh. Tecci come ti vedi. Sicuramente ti ha pregato come un'altra, no? Domani, è una netta questa che io non posso più sopportare. Quella donna mi tratta come uno straccio, come un carico. Ma solamente perché il prodotto o due non ti sienbe, faccio un po' così altro, perché c'è chiara di calamarezza, tra l'altro. Ma faccio una cancariata, posso facerlo? Mancano tempo. Mancano qualche io. Manca pure. E' un po' così, perché siete fratelli. Ah. Un'altra sera, per esempio, no? Trovamente picchino da matti. E io pure a stare proprio po'. C'era una bella lumechina, c'era, no? E ora mi stai sbattando il razzo. Così, e poi un cognac in janet. Da venire a cuccare, no? Eh, e comincia a stagliere, che non vieni, no? Diritto che devi colcare, no? Com'è? Dai, 10 minuti, lì, e comincia. Diritto che a venire, no? E' tì. E' tà. E' tà. E' tà. E' tà. Ma fracca, tu lo cazzo. E' tà. Ma ancora che si torna? E' vita questa donna mia, è vita. Porra, te ne ragione, mi stai detto. Però bisogna combattere i calabri. Chi ne aveva fatto così? Ma il fondo è buono. Come? Eh, il fondo. Ma io posso costruire i calabri, sapete? Tutti i cancariati, davanti in giro. Alla fine io cosa faccio le mani? Dette, mi vuoi cosa faccio le mani? O le faccio mancare me? Le faccio lasciare tutti i calabri. Eh? E' io, signora Lancia, ti capisco? Eh? Eh? E' io, voi lo faccio tanto, io faccio molto tanto. Eh? Ah, ma che si è brutto d'orze. Eh? Secondo voi, è possibile una cosa che ti dice? Eh, ford' me, sarebbe una vergogna. Tu non mi ha mai maiato. A quest'età, eh? A quella strata, e il fondo è finito. E noi non stiamo parlando di dare la vicino della mia. Senti di me. E poi non potete essere parte, la mia. Cioè, faccio un'altra cosa. Non mi può. E io non posso farmi fare. Parlando di voi. Facite la capace, non posso. E non ti preoccupare, ma. E ti preoccupare che, ovvero, ci parlo io, non mi vuoi. Tutti i lati, tutti i lati, tutti i lati. No. Minari, avanti in giro. E qua sta bene. La mia sera, no? Sshhh. Ma non mi parla, non potevo. Solo perché ho fatto un'attività, se non ci sbagliare il conto. Ma non mi lascio un'attività. Non mi mette un'attività. Non mi mette un'attività. Ma pianta un'attività. Ha fatto un'attività. Ha fatto un'attività. Ma poi ha fatto un'attività che diceva, diceva, O. Grocea, como se lo atleta là, icrina che ha detto, po' ce ne lo attira io così. E feita chissà. E feita secondo me, mette a questa cazza. Grazie. Grazie, grazie. Tu va qua il barrofattiglio? Allora, non voglio scrivere. No, no, ce l'ha stato dovuto fare un barrofattiglio. Eh, mi raccomando, quello, vedi al primo tu scappa con la burro, che cosa io lo prendo? Hai capito? Molto? Tranquillo, non da me. Ma voi si rilano, no? C'è per fare la tutta di là. Allora, ciao, bello, ciao. E' una carica piena di mariuccio mio, ma troppo mi scrivete. Carissimo Don Camillo, voi vi avete sempre detto di voler cenare una sera con me. Se volete, questa sera, possiamo farlo. Ci siamo uniti tre compagne e c'è da passare una bellissima serata. Ognuna di noi porta un piatto. Se venite, portate anche voi il vostro. Voglio sperare che non mancherebbe. La vostra, la vostra, la vostra, la vostra, la vostra, la vostra. Andiamo, 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 andiamo. La tira, come una barca solita da me ha arrivato a cuore, non c'è nessuno. In casa in San Masato mi sei andato una beatrice. Ehm... 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 che vi… Che farà anche lì? Ehm... Andrì c'è lì che fa a me, io ho citt'altro raggio. Ehm... Che guarda? Ehm... Mi sono a capire tutto. Con vi preoccupate? Io faccio il mio figlio di voi più bello. E il figlio quando ero giovine, pulire e i giorni. Ora come succede? Noh! Che io senni una signora! Ah… Uff... Uff... Uff, 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 cadono al cucchia di vostro. Uff... Uff... Ehm... Uff... E' vero, mi è venuto come potete sapere di me, non sei? Oh, ma proprio buono, signora Valtore, avremo una cosa che hai detto. La mia Virginia non è. Come sta? Ed di due a prendere da? Oh, da perdere? Eh? E' stancato, ah, ti vuoi canciare! E' come vuoi? Ma come si è successo a questi cazzo? No, io non ho una sera, ma non ho mai fatto il suo canzano. Vogliono il ca e vogliono il dà. E' alla fine, non l'hai riuscito a tutti i soldi, ma sapessi che è passato. E' chiaro che è successo in giagatteria. Oh, e che ti è successo in giagatteria? Senti che dentro le gallerie c'era una quarta lette di spagnoli giù. Si le s'ha messo quella roba? E' questa roba? E' quella che era felusa. E' questa felusa. E' questa felusa... Cosa sa che c'era la roba? E' quella che ci può avere? E' quella che non si sa messo quella roba? E' un grande tornuto finanziere. Ma mamma mia, che è successo con l'opinanzia? Beh, ci posso mi stancarvi a tutto questo. Oggi, che va a fare una tanti bronzi? Bronzi? Ma dove c'è quasi bronzi? Ah, ma vai a dire sull'ecito? Vai a tutta! Ma io voi dico, no? Anzi, è proprio a te a mandare a fare se si esiste. Frigina mia, nella vita che non sopporto più. Vengono certi momenti che non ti vorrei lasciare solo. Vorrei stare sempre con te. Invece no, devo correre a qualche paese, come un servisolo, come un facchino qualunque. Frigina mia, mi lascia fare un giro. Tutti giù, per il corso mi vieno chissà. Vengo io, non mi vedo. Ma poi non mi vedo io! Ma poi non mi vedo io! E tu non mi faccia più da chi? Perché? Perché? Frigina mia, ma non c'è di sperare. Ma senza Frigina tua, che devo venire da via, no? Frigina mia, non mi giocò, perché tu non ci vuoi con nessuno, perché non ci vuoi con il suo giro. Chieda, se ne approfitti, se ti avrei sposato, non ti hai più se sei in quella posizione. Ma non ce ne hai ragione. E lei può dare, lei può dare veleno migliore. Non è perché? Se non forse per me, se non forse per me, se non forse per me. Frigina mia, se io farò solo, disprezzerei questa vita. Questo pezzo di pane impastato con Valeria con l'ubilazione, Frigina. E babbona, mamma, faccio vedere una cosa allo stomaco. Ma senza, vi ti fai vedere quanto ti vuoi più bene. Gli ammenni proprio mori nella stessa casa. Gli ammenni stavimo sempre assieme, eppure morrimo i tuppetitti assieme. Madonna che sto... e quando ci siamo andati, e mettiamo a faticare, e mettiamo a fare i giorni, e mangiamo pure prezzo a noi. E quando si chiama la banca, se teniamo pane al quarto, non mangiamo cucchi a giri. E noi diciamo, che se il pane è caso faticato. Ma se, deixa il buon, vado a giù una musica risolata, e non ci è dubbio senza sapere dove è. Io non è. O signore è ad aiutare. O signore è ad aiutare. Quando faticiamo, mangiamo. E quando faticiamo? Sì! Ma non mi ricorda, non so chi ci trova più, sono tante le pennele catiglie. Chiama l'Innes. No, ecco, ma c'è un po' Ma che cosa non c'è? Un pozzurato. Ma non ci parlerò. Stai, un po' la cazzo. Stai. Ehi, perci, e lì, mamma mia sta sentito Enrico, via! Ma faccio un siglio, capo venire a parlare con la spia, e con papà puro. Mamma, mi ha chiesto sempre una cosa, penso. Ma mi dice D'Amelia, vedo la buona che adesso giungo, se ti portare o non c'è ancora cosa o no? E scelta che ne parlo, farò più parlare. Grazie. 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 Ciao a tutti. Ciao a tutti. E' Enrico qua a sapere, un po' che ho visto. E' qua. E' venito. vincere. Com'è? E', come ci stai? E' qua la cazzo, ? Oh, e' un po' così... Dici che u' manava? Cuando chiamo un po' catà come, il bro sarà netto lo dall' exaggerare. questo è un matrimonio che si farà sicuramente tu non pare che sia il capo con me esatto, è una casa pasta e macarrone e la prima torta e si, si, più mille, mille e cinquecenti la roba punta che ha acceso un quaderno la giudante per centoare la tua vendita e il suo primo da vedere ma se non sbaglio, non si vede, no? eh, non si vede, no? ma quando no, la sta tutta via è una cosa stasera dopo che sta com'è in ansia? dopo che torta a venti? ammo venite in uccele dopo che tu mi vede in uccele a me lo fai a bocca a me lo fai a il suo e questa è una persona che aveva Deve salutare prima lui Che sulle saluta Signore chi è? Enrico Pazzeviento Ai vostri comandi Sì, tanto a voi Quanto al signor Fortunato e al signor Camillo Don Camillo e Don Fortunato li perdono Tutto quello che voglio io Fanno loro Che bella pevura C'è, a parte Tutti la tante cazzone E' meglio, eh Va bene, va bene Allora parlerò con voi Volete rimanere da sola a sola? No, no, non c'è bisogno Quello che le vuoi dire Vi lo possono sentire tutto Non è una paese di te Bellissima Restate qui E chi non sta comune? E chi? Sempre Sempre, sempre Sette concursioni Siamo a dire Dunque, parlate Allora, signora mia Ti esprimo in due parole Vostra nipote mi piace E me la voglio sposare Domandatemi A mia per simpatico Mi piace e me la sposate Silenzio Cosa significa questo Rispondere in me Ti vi ha insegnato Certe creazioni E per mettere in giù Ma se no ti vedo io E non so voi Che siete il padre E non le dite niente Vergogna Boncetella Un'altra volta che rispondete Io vi mortifico Statemi al vostro posto Se no io Vabbè, la voce ciò Puglia Sì, è Perché si parla Sentite, Giove Oggi siamo in un'epoca Che riguarda il matrimonio Bisogna spalaccare tanto Un paio di occhi Un giovane si presenta Mi dà anche delle tante bugie E delle pazientate Non fa altro già per voi Parlo al generale E dice che viene 1300, 1400 1500 al mese Pieno, meno siente E poi non è per me Intanto che succede Che la giovane si innamora I genitori per non far Amparare la mamma Dopo il matrimonio Manca di mezzo E i genitori Sono costretti Di viviassero in casa E danno loro da vivere Non è bene, no? È bene, è bene Ecco l'ubicazione Poi devo dirvi Caro giovane Che ciò che voi avete Anche se fosse bene È un po' poco Per il mio riposo Cosa fate con 2000 al mese Anche se possono 2005 Cosa fareste? Mia riposo E tiene una bocca E scusate se ve lo dico Non può scusare Un nuovo commesso Con 2003 al mese Ma io tengo Uno zio ricchissimo Ma quel rumore L'ha stata tutta mia Quel rumore? Ma mamma Ma l'avevo Aspettate La mora E tu riscusate No papà Io muo Silenzio Io non avevo mai potuto Credere che voi Avreste accettati in questo modo E io mi sono Levolato da gran Tuomo Perché voglio bene Accorgertella Più qualsiasi cosa E vedi tu Tu che ho capito Vedi tu Tu Mentre dopo ogni mamma Ogni faggio Ogni zio Vedendo questo mio modo Di ragionare Acconsentirebbero A far felice Una piccola Io Non sono uno di quelli Che avete detto voi Uno di quelli Che si presentano In una famiglia Raccontano mari e monti Ingannano la figliola E dopo Che si sposano Si infugiano In una casa di parete Nella moglie E mangiano Viva E stasci passano Se la fai nel me Tu davvero Dove Perché io sono Una volta Che so Mi sono regolato Da gran cuore E non credevo mai Che non mi sono Di risposta Ma vi giuro Da quel giovane Restorzione Che con Cettella Sarà via Qualunque cosa Vedetevi Voglio parlare Dei nostri gizzi Io e Enrico Mi scusate Ma scusate Che ne dico io Ma sentite il capo Mi pare che a me Non faccio la mia mancola Un papà non c'entra Sono io La padrona del canto Sono io Che domando E come andate Si capisce Perché tutti Teniamo bisogno E voi Tutti quanti Vanno a manciare E voi E voi Vanno a manciare E perché Perché noi Abbiamo niente Un papà Si staccio Perché non c'è una posizione E uno può parlare Vanno a fortunare Perché giustamente I soldi Un li fanno Raperi la buca E fanno fare A tutta Pua E tutti Dipendano E voi Perché Perché hanno a manciare Ma si Disabitano Sopra Ancora Benissimo Ma noi Teniamo Sangue Incivene E mo Proprio mo Vanno Pia roba mia Minimale In questa casa Spicchio Sono io Maritata E la legge Dice Che la moglie Ad esempio Il marito Sua Ha così Voi Vi cacciato Fastidio E noi Finiscivi Soffrire Di chiedere In facciare Ogni poco Ogni poco Non si fanno I cari dati E gioppo E gioppo Troppo Comodazione Troppo Conferenza E' un po' Cacca E' un po' Fischè Ah Sì E' un po' Viene Venisci Mi Bezzini Piede E' un po' Viene E' un po' Sì Un po' Sì Non si fanno Viene Un po' Sì Un po' Un po' Ma io Buona Sì Ma io Ma io Buona Sì Ma io Buona Sì Ma io Buona Ma tu Ma tu Che è curiosa Voi non capisci Che fin Che Spaggitare La mamma Ne hai dovuto Puntare Ciò Dei Legati Ma dove Che mi Vuole A fare Di Sì Oh E come Sospettosa Ma Che Che è A casa Mia Sei Per Una Di Giocino Vole La Che Do Che 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 La Risposta Dov'era Mamma Mario Saccio Don Fortunato E Giocco Viejo Anche Che Piaggia Viejo E Dov'è Sa Vicciaia Don Fortunato E Un uomo Paszo E Un Che Lascia Non 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 Con Non Non Allora Don Camillo Chiede Che Puglia E Che Non Non An Sì Che La Che 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 i miei romani ho e una figlia e mamma state sposare a chi e te e te, a chi le capita? Purtroppo sia il terremoto sia il terremoto, sia il terremoto. Chi si succede bruci? Ma pu, sai che ti dico? Io vorrei chiedere ancora a Fidelita sul terremoto. Ma pu, vai arrivare, resta la pensione. Davide, domani l'abbiamo, l'abbiamo avvistato, però lo sappiamo. Eh no, ecco, perché io non voglio stare avanti nel momento senza succedere. Da tira da un ucconi, da un ucconi, da un ucconi, da un ucconi, da un ucconi. Ma Giulietta, com'è potrebbe rubare? Eh infatti, questo però va bene. Se lo potrebbe stare proprio quando la bambina sarà adesso. Voglio. Buona domanda. Ma bello, qual è il senso? E' fascinante. Siccome non mi ha trovato che stasera avessi ancora una giocogno, eh? No, così. Sì, ma c'è dentro da un ucconi. Ah, ma c'è dentro da un ucconi. Sì. Ma non mi ha trovato, però. Gito, gito. Un ucconi. 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 però posso darete una mesata e io vabbè aspetto, tengo pazienza no don ma che è una mesata ancora, me l'ha aiutata e canciare il ruvaglio ho un salto che ti canciare il ruvaglio beh come credete? perché io credo, è che c'è di altro eh senti, facciamo una cosa, basta, hanno il salto, ma andate a voi non venite come a parte i compagni da casa ho solamente come io no, non voi preoccupate, non voi preoccupate brava, allora, dove vai? no, ma tenete il favore, ma verrono per stare qualche serviette qualche serviette? sì, di che io faccio il calavetto? non voi preoccupate, voi vengono puliti e puliti, voi me la vedate? eh, va bene, per voi qualunque cosa che io ne prendo la caccia e ne prendo la biancheria tutta bella serata che me l'ha lasciata a ponere con un germa gioia mia sì, no ma sei capiente? ah, certo? eh, quattro quattro, sì a mia capo, a una certa età, io muoio eh, allora vai rapero la caccia mi piglio eh e piravo e io mi ringrazio tanto tanto vabbè ciao ciao ah, raperici, mi vuole tanto piravo eh oh, come si fa di questo? eh, però non ha poco della pura ragione lui sei la sua domenica è un po' troppo casino oh, io ti ti prego eh chi è? raperici, che ho so più inci che ho? è giudicato è giudicato buonasera 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 ma tu, che paura, che è successo? ma tu sapete che che è successo? e che è successo? e non si conto che si per i canziani ma come vuole a far riuscire proprio in me ecco perché alcune chiude la città e la città e la città e la città ma lo signore ci ho detto io che si succede? ci sono pezzoni che mi contano i cristiani che sono romane i talenti sui caputti muove ha fatto il portaggiatto e le giudasci le portaggiatto e la giudasci le portaggiatto e il maggiore si capa e la città come accerti voi oh, e quando mi sveglia subito io sono giudici giudici di tutta la stanza e chi ha da giallo che era sul tuo cuscino e non mancava da un talento ma potrei stare senza per venire io a cuore stasera? e certo senza dirà nulla perché io vinci senza venire ad un felice? Ah, non è vero, non è vero, non è vero. Ho provato, ho lasciato un biglietto già rubato in giù nel doppio mezzo. E lì c'è scritto che stasera c'è la magia, che avendo veniva la forza. E non è vero, non è vero che c'è di mangiare. E io fanno la stessa cosa, Don Camillo. Io, già assoluto, ci devo farire. Ma io, ma sapete che stai pensando? Che ricetto? Cod'è che stanno pensando che stanno venendo tutti i giocati? Ognuno si trida meglio solo. E beh, stasera poi hanno un lavoro conoscente. E non si, stasi li senti per i sali. Eh? Beh, io ma voglio prendere. E' un senso fuoco. No, abbracciate e vedete si vedono. Ma se... O Giuliani. Eh? E tu, con Cicci Bruteggiaro? Chi venne a capire st'anguola? O io, Giuliani. Chi ti sa tu? Ogni domenica un po' gioca spaziale tutto qualcuno da casa mia. Non ci caccia il medico. Ma che cosa ha disegnato? E non è la cosa, Lucia. Non è sderisciuto, non è populato. Quello che finemente cacciava la pistola, non c'era la gente. E' stato cacciato due volte. Di maldita dell'altro. Faccio la fine. E' rimanita. Eh, ma ora domenica passata ci ha levato un po'. L'hai sbalto un po' gioca ance e fai un bel bel bolo. A volte il fumo non c'è. E' un gioco. Eh? Mi mandatiti di minuto, vavi di fatto ospitare una poco. Poi, lusina mia, ho avuto tanto da fare. Poi, per me, tesi. Servite. Mi mandatiti di minuto, vavi di fatto ospitare una poco bella di più. Capito? E' la prima volta. E' come potete immaginare che io non venivo, Rosina mia. Io penso sempre a te, a continuare la mattinetta, la mattinetta, la sera. E io sono pensiero, la mia unica felicità. Beh, che non vado qua? E' che portato, come sapete, a regolare. E' portato sette portate. Eh, forza. Forza di caso. Come l'unice, qua, non è? Non è? Baragno. E' una bottiglia di cognac. La sera nemmeno la cosa. Bravissimo. Sì, secondo me. Bravissimo. Dai, andiamo a portare un'attività. Sì, sì, io. Sì, io, per me. Eh, sono cadendo mia. Arrivo, arrivo. Sì, io, per me. Sì, io, per me. E qua, Giulietta. Donne Enrico. E perché ci faccio i disimaldi? E niente, venne a fare il libro, che le cosaglie ha visto. Giulia, e tu invece che ci fai qua? Quindi si chiudai dove sta vivendo? No, lo stai sempre in grado. Sì, dove sta fare una cucina d'aria? E la nostra nostra, come sta? Stavona? Eh sì, un c'è mare, un c'è mare. A proposito, dove vanno? E' meno che vanno a 15 giorni. Vabbè. Ma, sai che dove vede io tu? Ma ci sei venuto a fare qua, non è? E' Giulia, e dicemi una cosa. Però a mia, va a dire a vendà. Parlate. Ma potete che un primo è già stato un vecchio, un certo don fortunato precipizio, con la giuscia e non con la rimane? Sì signora, è da lì. E chi è? Ma voi lo sapete chi è? Sì, lo sa' ciò che è. Ma di cui, il suo capo, ci è venuto a fare. Ma che dove vanno tutti i siri? E chi è luce di rosina? Che succede? Una, tutti i siri. Buono, buono! Ma che succede? Ma, onestamente, chi dove vanno questi in giurale? Ah, vanno questi in giurale? Sì signore. Ma voi perché non avete voluto sapere cosa ho? No, no, niente. E siccome... Eh, siccome non porto una doma per gli altri sordi, ma... che cazzo di Dio! E non è mai più fatturale, visto dove sta via di casa. Stamattina, ma se ne è cazzurta, hai visto che la mia cazzatura è e allora... No, mi ripeto, stai a venerci avvarla zitta. O di dormire, mi riuscire a costruire la casa mia, se non vedi che io vi stavo io. No, no, voi preoccupate, voi preoccupate. Ma... perché? Ci rivedete stasera? No, una piccola Gena, si può cercare un bagno. Mariuccia va giunata a casa, Rosina che aveva aiutato a chi ha detto prima, ed io. Ah, e io credo che tu non c'è un zio che sa Rosina, che dopo l'essere di voi, no, di chi traverete? Ma sai che per finire i resti? Per finire i resti? Un zio che sa Mariuccia, e poi non ve lo parlo, non c'è chi sta buono, non c'è tutto Don Camillo Pacchione. Ah! Ma adesso, si chiama Don Camillo Pacchione? Sì signora, ha detto come se già ti sa scusa. Ah, la faccia mia! Eh, il tuo innamorato sarebbe certo vecchio. No, 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 ma pure io mi marco la vicinità vecchia. Un zio che è vera cosa. Un zio che è giovane, simpatico e allegro. si chiama Felice Soscia Mosse. Io sinceramente è in sostaccio come fare l'amore con i tuoi figli. Babbona che si trova fin dall'assistimazione. Ma secondo me quel non mangio buono è fatta a forza. La donna è lei. Ah, con su babbona. Si capisce, Giulia? Si capisce? Un giovane sempre giovane. Ma, che vuoi fare l'altra cosa? Si chiama Soscia Tuttua che è giovane, psicologico e allegro. Si chiama Felice Soscia Mosse. E' successo! Venimelo! E' un attituto da portare. Si, si, ha pianto tempo fino a mai. Ma è stata finita. Bravissima! Che assassino! E se vuoi la guarda venire? Si, ma che ne va bene. Oh, e allora l'assistimazione io non mi voglio fare giocare in casa. Vi ripeto, si forrerà a casa mia con tutto il cuore. Non mi preoccupate, non mi preoccupate. Ah, che bellezza! Vuole comandare un bello servizio a tutti e c'è. Parpa, capelli e puro sciamma. Le farei vedere a chi era vecchia che ne tena vicino e che ne sogno io. Bello! Apera l'occhi e state attenta, state attenta. Non vi preoccupate, caro, sapete che hai un sogno, Giorda. E me ne hai ragionato. E' un sogno che mi ha dato sempre da pria, stelle. E' rimasto su un dono. E' un sogno che mi ha dato. E' un sogno che mi ha dato. e ti faccio l'esame con lui e' successo? e' affortunato stai attaggiando per lui di peggio e peggio e' scappato il cuore così e' già stai tagliando l'irito e' sorrilli qua te coi riusi ma' Mario già non sta medicando e' torino, e' bella l'odore che ne vuoi e' non ci posso fare i denti e' appena guardo tutta la faccia mi scappa di lì e' non vedere c'è che giù c'e' una duna chi e'? aprite sono io favorito, favorito buona sera le belle ragazze buona sera le belle ragazze accomodatevi e accomodatevi grazie tanto favorito prego prego servite grazie ahhh che bellezza stasera me ne sa' se c'è guaglione ora e' più bella e' l'altra e' proprio sce' l'altra eh Mario questo che faccio sarebbe buona sera e' chi ne sa' le malediche mi sa' le malediche mi sa' le malediche mi sa' le malediche io sono la malediche di casa la malediche di donna Mariuscia se vuoi, vuoi chiedere? io io sono don Pagliuchella il padrone di casa don Pagliuchella e' sempre forse il padrone di donna Mariuscia no signore l'hai affettato se due per mare ma vedete che sta colando tutto in terra giù ma che è stato facerci tenete la carta morgata già siamo a prima regolatela calciatela che anche se la pagora sapete com'è e' ma che è stato coltato come dieci da noi con la carta morgata e' questi sono pipi pipa all'aceto e' perchè si pulano? perchè si pulano? e' qua perchè siete stati attenti? non vengono a far colare che sennò perdete tutto l'aceto e' venuto mangiando a sotto ma guardate giù guardate giù come state facendo come l'avete tutto lascia tu è bene è bene no signore non vi preoccupate questo e' aceto farsi con l'aceto il potamento si rivolta e si capisce come si vai musculo come u' dà m'an ah ma dà m'an ah ma dà m'an ah ma dà m'an dà ma dà m'an a leggi a leggi da leggi e dà la comandà vieni del panno tantore pietro calgonha a ricarlu per le patrulli a casa ma scusate calcuando quando patrulli a casa che s'esceglie non per te lo so' pà fio ma dà m'an Anche che se stanno a capire una comunità rompa il peggio, eh? Scusate, ma. Scusate, la città. Scusate, sì, la città. Sì, io stanno sopra l'uomo, perché c'è una vez. E' l'uomo? Hai creato la fedora? E' l'uomo, 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 l'uomo. Ma pensavo che la bambina, già avevo un muro che ha una ganta. E' che poveretto, no? La prospuola, sapete com'è? Vai no ta, ho freddo! Mandua! I cani di pepe, i cani di pepe se non mi ricordavate nere. Dove sovi. Questa di San Iah? E' la sorella di lui presentata. Eh ma il miocio mi ha fatto tanto la fare, ma ci a genià, ma ci a genià. beh già, buono ad esempio che lì tu c'è la siena devo mangiare assia, mica devo mostrare assia e ora scendere a non scegliere? Sì, sì, fatezza mia io qua non so che ho vicino a tia, no, non vedo mi sento ragionando beh, fammi la passata se mangiare no, non è molto brigogno, ci sono i compagni miei, ma no, non c'è nulla, faccio un po' facciate basta basta, basta, dicete, mi avete buttato? ah, hai buttato, una cosa, spicci a lingua e stuzzicare sentivo vale, salate e salate che parete e otto, qui fa la città bravissimo, ha un salate rinforzo non c'è nessuno, non c'è nessuno ma non c'è nessuno, ma non c'è nessuno non c'è nessuno ma non c'è nessuno e neanche un po' allora sapete che volete fare? io te vengo in giocamare lì e te cacciate, poi lo siete pronti nuscite sì, sì, ti faccio un nuovo, eh eh a proposito è venuto un certo don mate ho avuto un mezzo malato di casa e perché? e raga Natale mia! Ma che tornava se faccio da piedi? Io sono pezzi! Vedi Gia Gia! Voi preoccupati! Vieni bene! Facetevi la terra! Vamo! Angioretto mio! Eh, Mario! Che sta sentendo finisci a giocare? Che ci vada in città? Ah, allora ci sono tutti qua! Pregamo! E' un cammino! E' un gioco in gioco! E' un gioco in gioco! E' un gioco in gioco! Prit e di più, Grazie. 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 Sì, non lo scuro che tu ti serve. Sper, aspettate caro mio, come parlare una coppia, zia? Eccomi a te, bellezza mia. Senza capiremo questa bellezza mia e bellezza tua. Tu ma vieni, che ci preghi? E te la mattina sei venuto più giù a te. Giù, io devo tutto vedere. Tu mi stai dovuto pure a prendere. Chiudi la maledetta di me, ma trova dove sei stato. Ma cosa dire? Io sono stato andato solo per il giugno. Veramente? Io sono stato andato solo per il giugno di me. Io sono stato andato solo per il giugno di me. Io sono stato andato solo per il giugno di me. Io sono stato andato solo per il giugno di me. Per il giugno di me, è la tua battuta, la tua mamma mia. Che ti stai aspettando? A un certo punto si è arrivata un giugno una bella carrozzarelle. Ma la consiglia si è riuscita. Una bella vestagliante. Sassi come si è messa veramente a scusare. E a te? Sì. Però con noi c'è la carrozza. C'è la una signora che ha detto qua già lì a giugnare. Come si forra stato un battesimo. Ma non, perché lui era un battesimo. Perché con noi c'erano con monage. Con le cartina? Ma che lui era un battesimo? Con un monarato? Cinto. Ne siamo messi una sacra rotta. E si metteva l'interno. Perché si metteva l'interno, ma c'erano i miei figli. Già c'era una bella tavola parata. Sì, con tutti i monaci. No, e come ci si metteva lì? Ah, non pensava che se no ci vorrei passare tutta. Eh. No, non c'erano i miei figli. E' arrivata la fine. 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 Che dice cose. Che avanti faccio tutte leite. O sei tutta. Che tu e' marito, ma che lei si è una mungere. Una mungere? E' disgraziata di tutto mancanando. E' con quale cora. Ci sono tutte le promesse e tutte le giuramenti. Con quale coraggio ha avuto tutta un'amnere che era povera, la mia già. Che te credi con un sacco lava. All'unno prima o poi si scopra tutto. Si scopra frutto per mangi. E' già in quanto ha fatto di questo. Beh! Oh! E' già quello che c'era sotto il tavolo e che è ammazzato! Perché la femmina che diceva che era un figlio? E' subito c'era mica la venire! Tanto è stata paura che in mezzo a crederà con i figli più spigliati! E' la vado buona, ma si sono scoppiati! Uomo, ma più non ci pensa! Ma che pare che ha un figlio? Che non si scusate! E chi pensa a fare? Eh! Oggi! Madonna mia, mi sembra un figlio! E' un bambino e un bambino e un bambino e un bambino! Che cosa sta? Veramente! Oh, erichissà mio, sono così più contente! Beh, se chi non nav there.. E' questo... A entraò che siamo pronti! E questo è un rice Santiut. Eh! A entraò che siamo pronti! Oh! A Spampa! Musica Michal! Che a voi fa sui presentazione Don Camillo Macchione Innamorato e promesso sposo di Mariccia Don Fortunato Precipizio Un duro sposo di Rosina E Don Felice Sciosciamauca Che fra fredde sarà il mio marito Beh, e chi v'è? Beh, questa soggezione Questa c'è limone, da? Finiti E facete una bella briscola, da? Beh, non si rubiamo se cosa Purtiamo nella cucina Beh, e che fai? Giazza 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 Grazie Giazza Giazza quello è morto Chiama maya Giulietta 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 a me mi chiedono già vincita voi per me fai te eh 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 questa vuole vorrei dire brazzo tu hai detto somma la mia giovane e poi ce ne si è che era malato no? tu la vieni dove l'ha buttato eh? tu la vieni dove l'ha buttato eh? mi metti tutti qui a casa non mi metti tu caci vieni a fare un amore io caci vieni a fare credi che ci vanno a fare tutti noi ma che c'entra? che c'entra? che c'entra? che c'entra? scusami? non è bello? vuoi sei tesorato? che andate a cazzate? che andate a cazzare? 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 sentite e stasera cerchiamo per non fare brutta ferora questo è una giornata che abbiamo preparato in la cazzare se no c'è la garazzea che non ci vogliamo volere e poi ci ha buttato la forza muore! 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 e stasera qui c'entra? stasera qui c'entra? stasera qui c'entra? un malone stasera! un malone! stasera qua! sentite qua! questa lega! un meglio meglio! ora c'entra la bocca! cerchiamo per ciò fare! alleanze! eh! alleanze! alleanze! ah! beh! che è? finito? eh! eh! basta io, caro! è una fama! eh! è davidio quasi tutto pronto! è davidato con il cuore! eh! 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 finito, aiuta mi a registrar il tavolo! sì! grazie! applausi! grazie! 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 guarda Lincia e fatti dalle sabbiette e posate sabbiette e posate felice sera felice notte lì c'è di Lincia e ancora un patto di colpa chi si so fare con voi? non vi riguarda so fare con me riguarda, non avete ragione so fare con me riguarda e stasera a Casimaccio si signore, la cena brava, mi fa tanto piacere insomma, per noi tu non c'è più niente mi fa il capire di tu tanti e tanti volte, facetemi capace e potrei fare capace prima tieni raggiù io voglio chiedere tieni raggiù uomo, dopo sette mesi che ho fatto l'amore fino a così niente tu mi dici fatti capace a mia, a mia che mi riuscite faticata la stagno già da 5 e 40 euro di uomo che vennerà a faticare c'era a casa tua quasi fin niente a mia, mi è ruminato il pitti a mia uè, senza che fasi mosse l'hai fatta pensata io ti muozo la riretta perché io sono mia maritata marito mi è stato fuori e mi è ricordo maritata sott'è detto niente è stato questo garante di piccolo di tene ma quella cosa non mi ha posito in ricciugio il stomaco marito mi è garita essi venuti giovanca facendo uno morto e uno carcerato marito e posate che se ti trova la tene che sono i frati? era un militare mo' si è congelato da poco mo' si è stato fuori pur un po' carruscia ah già, sono stato fuori e voi siete il fratello eh, sì signore io sono mio frate fagiolo militare capisci? ah, bravo, bravo eh, bravo domani si regno venuto eh, no ah, non ha vita qua no, no e chi sei la casa da cumugna mia? io questo duore caso non avevo mo' vediamo se tu buoni nella fretta domona signore, chi sei la casa di una cumugna da sua? moglie di un carabiniere che poi il cammino ce l'ha arrivato a pulire ah, chi sei la casa di una cumugna sua moglie di un carabiniere che ha mai da dinta che sei stato fuori ma il carabiniero a piedi o il cavallo mi sono due cammino a tre però non si sta a che sei qua grazietrl io ci capisco domani mattina sono mia dealing io dove non potete trovare lo armi eh già venne cercando con campanica io datemi un biglietto di visita ah no, si signora, vai a chiamare come vuoi? come vuoi? grazie guardatevi che li vediamo, sapetevi buoni abbuffatevi e divertitevi ma se volete favorire con noi no, grazie, mi ne vaio a proposito, cosa so che viste le fama di tutto? eeeh, coso già? che si chiama? ecco, questo viaggiatore questo viaggiatore, si un bacione, ma la mantena è prima da aprire eeeh, che si è niente e che vede ciancianile con su di casa che si fa? si, sui zagaretti, ciancianile di ciancianile ah, ecco, ciancianile ciancianile, e sta bene so, so, state buona e di nuovo abbuffatemi e divertitevi e di nuovo abbuffatemi a continuare a continuare Ia muia, è tutto pronto? Ia muia, ai chi belli i maccaroni stasera! Ia, aprite amici! Buonasera, scusate, ma abita la salsa donna Mariccia Perella? Sì signora! Signor, già sì! Dove sta la principale? E da vi, ho spinto il momento da vagliare! A, vini piccola! Diamo io! Sì! A, il resto è il resto! A, il resto è la prima! La lecce è la loro lima, ma lecce è la mia, sì, attacca, attacca. La lecce è la mia, sì, attacca. La lecce è la mia, sì, attacca, attacca. La lecce è la mia, sì, attacca, attacca. La lecce è la mia, sì, attacca, attacca. La lecce è la mia, sì, attacca. La lecce è la mia, sì, attacca. La lecce è la mia, sì, attacca. Eccoci qua. Voi di fronte a me e io di fronte a voi. Quanto sarei contenta se non ci fosse tanta gente strana da poter sentire quello che io vi dico e quello che voi mi risponderete. Mi dispiace di farmi però, e qui c'è nessuno. Ma non fa niente. Mi basterà che chi la serva, alla quale io prego di rendere pubblico questo palco. E qui c'è nessuno. E qui c'è nessuno. E qui c'è nessuno. Io non ho il coraggio di guardarvi. Arrossisco io per voi. Tremo io per voi. Volete sapere come non si succede i sciamboloni che direte la vostra? Tu non puoi sentire. Eccoci. Niente di meno. Sono andato in casa di gente sante a fare l'amore. Finisce la consigliatura. A fare l'amore. Non ci sarebbe meno abbastante per questi tre. Questi tre. Si. C'è. C'è. Non capito. Invece di invadare agli imparesti miei. Agli affari della sorella. Di quella donna. Cagliorno. Piggiorno. Con le lini ci assaggi di tivetza. Si. 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 E forse per lui non sarebbe tanto male. Perché non è abbogliato. Don Felice invece. Oh. Silenzio. Che dovrebbe essere riconoscente a questa zia. La quale l'ha saziata su di uno. L'ho vestito. E gli ha dato da mangiare fino a ieri. Don Felice. Invece di pensare a tutto questo. Se ne va dalla salta. Eppure. Eppure si potrebbe dire giovane. Non avere esperienza. Ha potuto mancare. Ma non è fortunato. Oh. Quanto è pesante la tua volta. Quanto è terribile la tua mancanza. Per poterlo punire non basta la galera. Non bastano i lavori forzati. Solo la morte sarebbe un castiglio meglio da poterli dare. Ma stavolta. Ma stavolta. Chi ne ha dato? Se mi rivolgo ai tribunali. Quelli se ne vanno avvisati. A chi devo rivolgere? Chi mi fa la giustizia? Ebbene. Me la faccio io stesso. E' la meglio c'è burale. No. O vi discolpate e vi dite perché stavate in quella casa. Oppure uscirete da questa casa e andrete a chiedere me la cosa. parla di una alla volta. Parla di una alla volta. Guarda come neanche. Quelle cazzo? Ma cosa ci vuol credere l'autoretà? Non ci vuol credere l'autoretà? Non ci vuol credere. Non ci vuol credere di stare in cornice. Silenzio. Oh Beatrice mia. Tu sai come ti ho trattato per anni e anni. E quanto è bello barbaggiani. Silenzio. Ma si piunge i guai. Che se non era col barbaggiani? Tu sai come ti ho trattato per anni e anni. Tu sai che persona sono. E non riesco a capire come hai solamente potuto immaginare che io ieri c'era casa. Mi trovavo per fare l'amore. Quei altri. E allora perché ci sei andato? Che c'è? Non te lo dico. Dunque. Ieri. Come tu pensai. Sono uscito per andare dall'apodà. Che era casa. E' l'autoretà. 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 E' lì. E' l'autoretà. E' lì. E' l'autoretà. E' capito a dire. E' l'autoretà. E' a caccure. E' a caccure. E' caccendo un brodo. E' iniziali. E' l'autoretà. Allora che fatto? C'è tu. C'è tu. E tu lontano. E' il tempo. Meneremo. senza cava, c'erano qualcuno in un palazzo, e allora toglierlo sotto pure io, ma a coglielo entra l'anno, mi sembra che come tuo marito, come te io, e come uomo pronto, non ho fatto che il mio dovere, ma più curvo, stai stampare tutta la faccia, e poi caro don Camillo, perché ritrovavano in quella casa, ieri mattina, come tu sai, sono ucciso per andare dal notario, per fare gli affari che dovevamo impiegare insieme, ricordi? Mentre camminavo, mi metto e mi incontro un amico mio, e mi disse, veramente tua figlia ha fatto un bel matrimonio, e perché eri sposito? Sai, Don Felice tuo genero, dove è andato? E dove è andato? E' entrato in quel palazzo, e poi è entrato nella casa di una santa, io l'ho visto perché mi trovavo scendendo il tuo fratello di sopra, e ti preoccupa, a mia avendo il tuo palazzo che era malato, e poi cazzo, caccia a testa da con voi, così sono andato anch'io in quella casa, ma per che mi ricordano sul fatto, mi sembra che come tuo fratello, e come padre della sposa, non ho fatto anche il mio palazzo. E se sono i giovelli che è carino? E se sono i giovelli che è carino? E se sono i giovelli che è carino? E tu? E voi, come potete disfoltarmi? Non mandare le armi di palazzo. Commosso. Commosso fino a un altro nello del grande pietro. Dalle deposizioni fatte da questo orangotang e da questo paculismo. Rispondo con la nervatura tutti in oscillazione, non dico che è la verità tu, tu questo è te, questo l'anno è fin dall'età di 13 anni a me faccio tutto sempre lo cuore ed ogni volta che mi diano voglio una cosa per dire dove mi veniva di casa tutti gli uomini hanno un vizio chi è un vizio, chi è un vizio, chi è un bambino chi è un vizio di acqua un vizio di acqua, un vizio di acqua un vizio di acqua non è viva, un vizio di acqua cada questa città il giorno dopo il giorno fa il giuramento di non bere più potremmi imparare quando rimanoata la candela era bambina, si ferme, era bambina non era bambina, era freschia, era pesca e che un povero uomo non senza nemmeno se nemmeno si trovasse a tallo un tavolino con una canna di vero sul tuo coso questo è successo a me, richiara che sei febbre e incontrai mia moglie la presente mi piacai d'amore, la voglio sposare, così caldo e mi inguaiare il giorno dopo feci giuramento di non guardare nessuna donna più in faccia e stessi credo credo stessi credo come dire, la carta a te, lo pezzacolo un giorno incontrai una salata, era boda, ma come era boda, che era camminata, che era coprotura metteravolo con una calaventa per la facilchiazza di spannea come dire no metteravolo esternamente per un'attività dentro da peso direi che questa tale non mi ritrazionai con lei si è vero, io andai in quella casa ma quale fu la mia sorpresa il ritrovare su due vici pezziose nella stessa abitazione uno finanzato con una certa rosina e il destro con una certa mariuccia abbiamo messo d'accordo ed abbiamo fatto un'alleanza e invece tu stai pronti per la cenna se parlavate voi andate un tronco giupare dentro chiedi che non te la verità chiedi che non te tutti i miei sogni e i caloni buongiorno buongiorno su un poverone mio per il paligantone che stavano loro un corno a fuori ma chi l'ha rivedito? a lui a me a me fortunato potete provare la vostra inocenza aspettate io ti ho avvocato e ti dici chi è ieri domenica? non ci sono andate e la testa si che non lo so e chissà che trovo è anziché sono giù assata a costa io e tu sapete chi è ieri tu e mi pagherà a casa e questo Beatrice come te lo posso dire? col tempo ecco la paglia si è andato a non cercare non te lo vediamo in una casa e voi caro non capito navi di pro tu avessimo i primi provi io mi posso portare quella a me come io mi convite entrare nella casa della sala anche questa non è la propria non ci sono i primi provi e no non ci sono i primi provi dove non? due samizzi che non leggi stesse in modo non il capello è nascita la grasola qui dietro l'azienda è nascita la grasola che è nascita l'azienda quando aveva avuto girato l'azienda siccome era soltato fu un colpo non? non c'è un piede se ti ha messo dentro faccio vedere la cammessa faccio vedere la cammessa non c'è un po' non c'è un po' faccio vedere la cammessa non c'è un po' non c'è un po' in realtà faccio vedere faccio vedere la pubblicetta faccio vedere la pubblicetta a vera una cammessa una è un po' basta basta chiamate a concettendo poi sui punti di avuto io suggerito virginia concettero voi stavate starete sempre con me, non vi mancherà mai niente, andate in quella stanza. Che chi? Va preparati sul bucchia di carri e qui si subito due, 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 due. Poi non avete più buona, poi non avete più sorella e poi non avete più giù. Anche il Romero è un libro che dà un primo. Come se ne parla? Non ci prende, non ci prende. Mi riparto te, assassino. Ma siete per me assassino? C'è tutto l'altro, non c'è ma adesso penso che io mi rispiro. Io mi rispiro. Io mi rispiro proprio niente. Ma sai che faccio? Ma io devo notare. C'è un avvocato che mi fa una causa con tutti i maschi. Se io mi trovo in questa situazione, lei è stato perché la mia persona mi rispettava, ma è stato più disgraziato. Lei, come sorella, ha il dovere di alimentare il fratello. Muovere. Muovere che piatto quello che mi fa. E io, con gli uomini, come te prego. E le piccola perché andrò ciao. E io come pazzo. Come io riparare. Io non parlo manco picciare i cantini. E sta arrivando a te. Ma che sei arrivando? Che sei arrivando? Che sei arrivando? Che sei arrivando? Ah, ma non è la mia, non è la mia, non è la mia. Ma non è la mia, non è la mia, non è la mia. Ma favore, chi è? Servo vostro. Padrone. Scusate, qua vi do un certo, da un fortunato precipizio. Sì signore, chi lo desidera? Mi piace il tuo favore molto amante. Quando le dico una e due parole. Una e due parole. Lo sapete più volte, Messia? Un fortunato. E tu un fortunato o c'è? E nessuno? Ah, o c'è? No, o c'è. Un fortunato. Ma scusate, lo sapete quando si ricorda? No, lo sapete. Lo sapete perché non è fortunato, lo sapete che si può rifugire tutto. Però c'è quello che riesce, e sta pure lui, e tu hai più. Non è fortunato. 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 Ma non è fortunato. Ma non è fortunato. Ma non è una persona che sa successo. Mi è in Frage che non ha fronte? Ma non lo so. Ma se non lasciate. Perdonate. Perdonate. Mi ha pechino incansate. Scusate. Eh, vai di vedere. Non c'è bere. E non c'èorable. E guardatevi. chopita, capilla cosa mi ha detto come c'ho ccocciato? Figuti te di n***a un minun. E hanno bambaraggio? Ma nonаго mia. Ma chi comunque nonного stessa per? La boots di Chickas? Non ha sf monitorato di. Ma non c'è senza nulla. È giusto. Mi ha domani Васiliare, ma sai dormite. i nuovi spagnani, chiamati cristiani, fatti di pere, e perché? Facciamo pere, ma va a dire una cosa? Alcuna cosa, va a dire una cosa che farà cadere ma li vada a vivere, che io li unia già fu bene a un uggere, chi l'ha infame, chi l'ha scellerata che ieri dopo sette mesi abbiamo fatto un lavoro voi sapete che mi ha detto? che ho avuto di fare capace e chi era maledato e come l'ha detto prima per favore, chi ammazzava lì? da mio marito ma con chi è questo succede? a mille mesi c'è capo o da un po' di un altro minuto a te che a mille non ti faranno più o c'è il ricaccio, si sia parte i caccio i caccio, e ce l'ha più rucato ah no, ma no, passate l'idea la stanza ma si pensa per amici, per amici è stata capace un po' con Cristo ah 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 Dio mio te vi grazie e devi propriomi preparare l'idea scusate uola avete 대io perso ci usere davanti a fofo amarete E moglie se vi porto un cane cacciate farlo e la moglie e si capisce che io muovi il spagnaccio Benissimo! Facetemi un favore, già siete in giata stanza. Capo, vi faccio venire tutti tu, marito e moglie, via, via! Io volete cagciare, già vincere, va bene, io vado a spiegare, se noi vieni, se li vieni a distanza! Il bante, assassina, svergognata, e sicché a me era come un papazzo, come un papazzo mi trattava, eh? Ma io come mi erano le vinci? Anni e anni di umiliazione, cazzotte, cancariate, adesso arriva il momento, vi do un fortunato precipizio! Venmi! Venmi! Oh i signori, ma, puh, vi volete fare i cazzarmi? Io non capisci di capire che dici i guai! Dov'è? Dov'è che amo voglio mangiare i piccoli carni? Dici, grazie a tua penchetta di salamena! E non gridare, che fiamore di Dio! No, io grido, perché voglio che mi sentano! E ti muociare che sono una guagliona nesta, io non ne sappiamo niente che l'anzurato! Ma, puh, come l'avete saputo? Stamattina, insieme alle compagnie mia, io ho aiutato solo il tuo padre, già che ne passava i litri, per sapere alcuna cosa tu fatti da lì a sera! E il papazzo mi ha detto, che fai diametri mia, non ha sapere lì a dire! Ma chi? Sono tutti i tre uomini insulari! Ove il signor, quando mi ha detto che sono già poco spazzia in terra! E perché mi ha inviato a me? Sì, compagni mio, non avevo molto giurato un bene, non avresti in terra! Io no, io sono miscola, mi piace la cosa! E avete ragione, però, sentite a me, sento che faceteli qui e non diamati gente, sento che volete sparare il cuore ansia che era raggiata come, o si sa che! Ehi, calmate le cuore nere, venite domani a parlare con tutti quanti! Domani? E tu adesso le nusciuta panza! E io, digno tutto se non la capo, digno tutto se non la capo! Digno tutto se non la capo, digno tutto se non la capo, digno tutto se non la capo! Che è che io e te voglio! Ah, a me non marco la storia! Ah, vuoi spiegare! E mi fa proprio più agire che hai visto prima un bui l'altro! E io sai che ci vuole, c'è un piccaccio che ci fa! Eh, Giulia! E chissà ciò che mi sogno! E io penso dopo che non sono neri di più in questione! Ma che ti ha creduto fu che lì cazzo ha fatto! Ma a Cristo ci vuole capo! Ha fatto la solita bravata che fanno tantissimi graziati con Mattia! Che si copronati di mamma! Ha fatto una bocca di buona buona! E poi ad un certo punto le dicono con le buone varie retta che ha i suoi uomini insurati, no? E si credono che facendo che sono fatto una cosa buona, no? No! No! Vieni faccio! E tu dici graziato con Mattia! E senza compassione se un bel interno di essere esiliato! Per gli fare i passali, chiediti prova! Una povera figlia di mamma! Puglio bene! Grazie gente! Guarda stavolta che ha segno il camminare a capo! Io sono stato accorto a corte! E vieni la teologia! Fate sapere, signor Gairo, ma vi è assurdo tutto il fatto! Tutto quello che poi è successo! Perché? Perché non sono nero? Mi sono fatto di pariente! Mi sono fatto il camminare! Dovrei riparire! Io voglio fare unire i pariente! Ma, mullere, dov'è? Ci voglio parlare! Mi devo giudere più le saviar niente che era scusato! Ma io mi sei un po' di pariente! Via! Aiutami! Aiutami! Aiutatemi! Aiutatemi! Prendi! Prendi! Non è! Non è! Non è! Non è! Non è! Avete venuti a credere tutto! Ma non questo! Donna imperfetta! Mi bastava, roma Retor, no? Avete voluto pure tutto un'annumaro! Sei messo pazzo! 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 Da prima volta che mai avessi che un sacco sotto il materazzo! Andate, andate in quella stanza dove vi aspetta l'uomo da voi preferito, andate! Ma se è piaciuto pace? Si, si, non ti faccio vedere io, ti faccio vedere! Signore, uscite, uscite! Dalla ognuno! Hai gente correti! Lazzami, lazzami, lazzami! E' peccato, il bravo di Dio! Mi mette già sicura che la cipistola! E' un po' di umanità! E' un po' di umanità! E' un po' di un po' di disturbare giù! Molto che non accampire di disturbare quella moglie di suddiscarciato! E' un po' di irrità io ne sape al mente che era scusato! Ma moglie di me! E' sogno io, sogno io, disgraziatamente! Signore, io al mio avevo detto che era scritto! Come pure sulla pressione canonica mia! Bravissimo! Scusate, ma c'è un inquivoco eh! Facetemi un favore! Stai, non avete detto mo' Morati! Cosa faccio l'amore cominciare? E chi è vostra moglie? Come chi è? Ma gli anni vini, facetemi un favore! Guardate, rispetto! Maggi e non è un po' di due! E chi è la moglie? Non fortunato gli dupi? No signore, fortunato il suo signor in cà! E chi è stare un biglietto visto a capa di? Ma chi è stare un biglietto visto a me? Ma chi ce la dà? C'è un po' di buone cance da ratti, io mi spuso tutia... Oh, in gioia mia! Senti ori la? Aspe, aspe, sapere non succo, succo mei lo! Ah, succo mei lo sapere! Succo mei lo sapere, succo mei lo sapere! Unio eile secce! Beatrice, come ne vado? Vado a quello che vado Pensa che sono tuo fratello E io come andremo? Ma andremo a tutti Come andremo? Che faremo? Moriremo Non lo faremo mai più Mai più Mai più Mai più Mai più No, no, no Bappo, ti stavo da perdonare Sono io Posso sapere che non c'è la sua corda membela Sono io Soccarmi Ma io volerla sapere che ne ha mandato Una lettera anonima Io A me mi faceva troppo rabbia Venendo a portare le moglie in più moda Così mi ha scritto la lettera Per farmi scoprire tutta la vendita E no, a te ringrazio ma stai assai Non c'è l'amore che ce l'ha Ma alti passare, non la salta su un genio Bravissimo E in ricompensa vi concedo la mano di mia nipote Enrico mio, finalmente Io, no, mi stai in giro di conè Stasera ne parrà Te vai provare un sapore di cazzocce Un sapore di cazzocce Un sapore di cazzocce Un ruizzo mi conviene Però Il sapore di cazzocce E il rumore di a voi Applausi 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 Il fiorone E le riede E speserate E siete stati bravissimi Vi ringrazio A tutti Uno per uno E la comunità di Antiglia Ma non grigio Per l'ottante di Santa Saverina Quindi un paese Che cresce dentro di più Un paese che vuole vivere Il proprio lì E così viene E questo è il bello Applausi Buonasera Siamo a Altilia Abbiamo appena assistito Alla commedia Fatta da Da un gruppo di altiliesi Di cui sono effettivamente Molto orgogliosa Abbiamo trascorso due ore Con entusiasmo E serene All'aggiunta Tutta ha partecipato Con soddisfazione E invito sempre Tutta la cittadinanza A condividere questi eventi Che unisce e rafforza sempre La nostra cultura Grazie Buonasera Quanti voti diamo a loro? 10 Ok un applauso Grazie a tutti Grazie a tutti